Ok, oggi io ho un sogno perché ho sognato, sono l'alieno, qualcuno mi ha portato là con il razzo e poi mi ha portato nell'alieno, io ho detto nella luna, ma poi io vado a fare là, ma poi qualcuno mi ha sparato con la pistola, ma era un alieno, proprio io non ho visto, ho fatto una foto, ma c'era l'alieno nella foto. E poi stavano sparando quando stavo scappata e io sono caduta, ma poi sono arrivata nella luna, ho visto degli altri alieni che sono caduti, proprio gli alieni, come me, e poi stavo scappando a tutte le terre, ma poi sono ritornata a casa, ma c'erano anche gli alieni e tutte le persone, arriva qualcosa fa, pum, nella città, ma non è per davvero, proprio, che a me non piace così. E poi, e poi gli alieni mi sono fatto una bua qua perché gli alieni sono cattivi, sono anche i verdi, anche il signore S, che loro sono i mei contro te. Allora, e poi il mio sogno, io ho detto, gli alieni forse hanno detto dove sei, perché io mi sono nascosto un bel posto, dentro la macchina, e poi gli alieni mi hanno cercato dentro la macchina, ma non me l'hanno cercato perché io mi sono nascosta e loro mi trovavano tutti, non sono diversi, sono uguali. E poi, fine della storia. Ok, in inglese? No, no. You have to, because they don't understand what you're saying, you have to translate in an inglese. Ok. Ok. Today I have a dream to rain, con you. No, I have a dream to tell you. I have a dream to tell you. Ok. One day, there is a little girl, that's my name, Asia, and they say I want to go to the moon. I know I can go to the moon, but I go to see something, and something is part of me, I do a picture, but it's an alien, it's part, and I run, and it fall down in the moon. But then also the alien is there, and then go to the moon with a house. Ok. Ok. And then the alien always follow me on the road, on the house, and destroy it all. And then me, I hide, and they said, where are you? Where are you? And then me, I hide in the car, but then they no can't find me. I go home, and they find me, same, same boss. And then I say, the alien said, where are you again, why hide another, and end of the story. That's the end of the story, this is it.